Cari amiche e cari amici del mio canale di YouTube, ciao a tutti. Oggi vi accenno una teoria molto controversa e affascinante, la nuova cronologia di Fomenko e Nosowski. Si tratta di una proposta di revisione radicale della storia antica e medievale basata su metodi astronomici, matematici e statistici. Questa teoria sostiene che la maggior parte degli eventi storici comunemente accettati siano in realtà falsificazioni o duplicazioni di un periodo storico complessivamente più breve e più recente rispetto a quello che dice la storiografia ufficiale. Io naturalmente non sono uno storico per cui non ho la possibilità di capire se tutto questo può avere un minimo di fondamento o no, però mi occupo di astrologia mondiale. Saprete che cerco di mettere alla prova le varie tecniche che ho esposto in molti video e anche in questo libro. In particolare ho studiato i cicli planetari e l'andamento dell'ICP, Indice Ciclico Planetario, nel corso degli anni, addirittura dei secoli, cercando di verificarne l'effettiva aderenza agli avvenimenti storici. Il risultato cui sono pervenuto è sintetizzato nel mio libro, ma l'ho presentato anche in diversi video che trovate nel mio canale di YouTube. Molto in breve, questi cicli sembrano funzionare a meraviglia, riflettendo cioè molto bene gli eventi storici, solo a partire grossomodo dal XVIII secolo, mentre per i secoli precedenti qualcosa sembra non quadrare del tutto. Inoltre i cicli planetari e l'ICP sembrano insufficienti a illustrare la storia dei grandi imperi extraeuropei, come per esempio quelli precolombiani sul continente americano. Una prima spiegazione che mi ero dato per questa anomalia è che forse mi stavo basando su una storiografia eccessivamente eurocentrica. Ma questa risposta non mi sembrava soddisfacente, dato che nelle mie ricerche ho consultato numerosi testi storici e tavole cronologiche che non sembrano mostrare particolari lacune. Poi un giorno, per caso, sempre che esista il caso, mi sono imbattuto nella teoria di due prestigiosi matematici russi, Anataly Timofievich-Famenka e Gleb Vladimirovich-Nasovsky. Spero di averli pronunciati bene ma d'ora in poi li chiamerò Fomenko e Nosovsky. Passandosi su metodi matematici, statistici e astronomici, questi due studiosi propongono una diversa ricostruzione della datazione degli eventi storici che si discosta notevolmente da quella ufficiale. Naturalmente gli storici li hanno aspramente criticati anche perché questi due hanno osato dire la loro in un settore nel quale si suppone non hanno competenza. Solo gli storici infatti possono parlare di storia e di storiografia. Non vi sembra giusto? Vi ricordo qualcosa, per caso? Nel tentativo di scoprire se la cronologia alternativa di Fomenko e Nosovsky potesse aiutarmi a spiegare ed eventualmente a correggere le anomalie nel funzionamento dei cicli planetari, ho voluto approfondire questa tematica grazie a questo libro di Andreu Marfuge che, mi risulta, esiste solo in lingua spagnola. Fomenko e Nosovsky affermano che la storia ufficiale sia sostanzialmente una falsificazione basata su documenti manipolati e su tutta una serie di interpretazioni errate, a volte volutamente errate, altre volte magari inconsapevolmente errate. Sostengono che la vera storia dell'umanità sia molto più breve di quanto ce l'hanno raccontata e che molti personaggi e fatti storici siano duplicati o addirittura inventati e che le civiltà antiche, come l'Egitto, la Grecia, l'Antica Roma, siano in realtà proiezioni retroattive di imperi medievali. Secondo i due studiosi, la storia umana sarebbe iniziata solo nel X secolo d.C. e tutti i fatti precedenti sarebbero invenzioni o proiezioni di eventi realmente accaduti ma in epoche successive. Ad esempio, l'Antico Egitto sembra ricalcare le vicende dell'Impero Ottomano, la Roma Antica sarebbe una copia della Roma papale e Gesù Cristo sarebbe addirittura l'immagine di Costantino il Grande. Anche la storiografia ufficiale ammette l'esistenza di occasionali clamorosi falsi storici. Uno di questi è la Donazione di Costantino, un documento del IV secolo d.C. con il quale l'Imperatore Romano avrebbe fatto una serie di concessioni alla Chiesa Cattolica, elevandola di fatto a religione di Stato e contribuendo alla sua definitiva instaurazione che perdura fino ai giorni nostri. Nel 1440, però, il filologo Lorenzo Valla notò che questo documento era scritto in un latino piuttosto diverso da quello in uso all'epoca di Costantino, concludendo che si trattava di un falso creato quattro o cinque secoli più tardi dalla cancelleria papale per giustificare il potere temporale della Chiesa e collegarlo a tutti i miti della Fondazione di Roma, che a sua volta sono legati alle vicende di Enea e a tutta la mitologia america. Questo è solo un esempio, ma Fomenko nonsovski ritengono che a un certo punto della storia siano state fatte numerose altre opere di falsificazione di questo tipo. Lo scopo è di giustificare la presenza ai vertici del potere da parte di certi capi di Stato e di glorificare, o dittura divinizzare, in certi casi, le dinastie regnanti. Non so se sapete per caso che l'attuale re di Spagna è anche re di Gerusalemme. Ma quando sarebbe cominciata quest'opera di falsificazione storica su larga scala? Attorno al 1725. In quegli anni, non senza dibattiti e divergenze fra pensatori che coinvolsero figure di spicco, quali Isaac Newton, il francese Jean Arduin e Petr Kreschkin, segretario personale dello zar Pietro il Grande, sarebbe stata messa a punto la cronologia pubblicata da Scaligero col titolo di De Emendationem Temporum. Ufficialmente quest'opera risale al 1583, ma secondo Marfouge sarebbe stata in realtà scritta nel 1768 e retrodatata di 185 anni. 185 anni è un numero che compare diverse altre volte, 185 o multipli di 185. Compare diverse altre volte nella teoria della via cronologica, tanto da dare vita a una linea cronologica alternativa a parte, chiamata cronologia X-185. La cronologia ufficiale, che oggi viene universalmente accettata dagli storici, è però sostanzialmente la stessa da allora, quella di Scaligero. A chi faceva comodo raccontare un passato diverso da quello reale, dilatando a dismisura la storia dell'umanità, inserendo in maniera retroattiva secoli, se non addirittura millenni inesistenti. Lo vedremo presto. Prima dobbiamo chiederci su cosa si basano le attuali datazioni storiche, che limiti hanno e perché oggi può apparire lecito dubitare della loro assoluta validità al punto da ipotizzare l'esistenza di una o più cronologie alternative. Stavando un tunnel troviamo, mettiamo, una spada. È un pezzo di metallo. Come facciamo a sapere a che periodo appartiene? Oppure durante i lavori di una certa linea della metropolitana troviamo le fondamenta di un antico tempio romano. È fatto di pietre e battoni. Come facciamo a sapere in che anno fu costruito? Ecco, i metodi sono molteplici. Se troviamo un oggetto di origine organica, per esempio una corda, un manufatto di legno, una cintura in pelle e così via, e riteniamo che l'oggetto abbia meno di 50.000 anni di età, per datarlo possiamo sottoporlo alla prova del carbonio 14. Il carbonio 14, chiamato anche radiocarbonio, è un isotopo radioattivo del carbonio del quale conosciamo il tempo di dimezzamento, di circa 5.600 anni. Si parte dalla premessa che in un certo tipo di ambiente, in un certo tipo di materiale, in una certa epoca storica, fosse presente una certa quantità di carbonio 14 che oggi noi possiamo stimare con una discreta approssimazione. Si calcola che ai giorni nostri sulla Terra ci sia circa un atomo di carbonio 14 ogni mille miliardi di atomi di carbonio. Gli esseri viventi assorbono il radiocarbonio dall'ambiente in cui vivono, per cui la quantità di carbonio 14 nel loro organismo rimane sostanzialmente invariata fino alla loro morte. Dopodiché diminuisce col tempo, perché al loro interno gli atomi di radiocarbonio un pochino alla volta perdono un elettrone e diventano atomi di azoto 14. Semplificando, non si tratta di valori assoluti, ci vogliono dai 5.600 ai 5.700 anni perché in un certo materiale di origine organica rimanga a metà degli atomi di carbonio 14 esistenti al momento del decesso di quell'organismo. Dopo altri 5.600 anni circa, quel materiale conterrà un quarto del carbonio 14 che aveva inizialmente e così via. Questo è il tempo di dimezzamento del radiocarbonio. Questo calcolo, però attenzione, vale solo per il carbonio 14 perché ciascun isotopo o elemento chimico radioattivo ha un proprio specifico tempo di dimezzamento che è diverso da tutti gli altri elementi. La datazione al radiocarbonio si basa dunque su una stima della quantità totale di carbonio 14 presente in un certo ambiente in una certa epoca. Stima che si ritiene attendibile fino a 50.000 anni fa, non oltre. Per cui questa tecnica non serve adattare oggetti o materiali organici più antichi. Occorre anche sottolineare il fatto che la quantità globale di carbonio 14 sulla Terra è soggetta a complesse variabili. Per esempio, durante il periodo dei primi test atomici negli anni 50, il carbonio 14 era aumentato a dismisura. E' stato riscontrato anche un altro picco insolitamente alto di radiocarbonio attorno all'anno 775 d.C. e sull'origine di questo picco si possono fare solo delle concetture. La datazione al carbonio 14 rimane a tutt'oggi un metodo controverso che non sembra in grado di dare risposte definitive sulla vera età di tutta una serie di reperti antichi. Ricorderete per esempio che la Sacra Sindone, che dovrebbe avere quasi 2.000 anni di età, secondo questo metodo risalirebbe invece a un periodo compreso tra il 1260 e il 1390. Inoltre, con il radiocarbonio possiamo datare esclusivamente oggetti e materiali di origine organica, per cui questa tecnica non ci aiuta a capire l'età di pietre, rocce, edifici, ecc. Infine, prima di poter datare con ragionevole certezza un qualsiasi oggetto organico col metodo del radiocarbonio, si deve fare un'operazione di calibrazione. Detto in soldoni, si prende un oggetto del quale si conosce già l'età con ragionevole certezza e se ne misura il contenuto di carbonio 14. Poi si ripete la misurazione sull'oggetto che si vuole datare e si confrontano i due risultati. Se la quantità di radiocarbonio è simile o uguale, vuol dire che i due oggetti appartengono ovviamente alla stessa epoca, altrimenti appartengono a epoche diverse. Quello con la maggiore quantità di radiocarbonio sarà più antico e quello contenente meno radiocarbonio sarà più recente. Facile, logico, ma anche un po' autoreferenziale. E allora, per datare un edificio, una spada o un documento storico, occorre appoggiarsi anche a numerosi altri metodi e considerazioni. Se cavando nel terreno mi imbatto in una tomba antica, la mia datazione si baserà in prima istanza sulla profondità dello scavo, perché si suppone che più si scava in profondità e più sono antichi i reperti che possono venire alla luce. E poi si guarda il contesto. Raramente si trova un singolo oggetto isolato. Attorno alla spada o alle mura antiche del nostro esempio iniziale, troveremo ossa, resti di abiti, ornamenti, gioielli, vasellame, eccetera, il tutto dovrebbe concorrere a creare un quadro complessivo coerente in base al quale possiamo stimare con una buona approssimazione l'età del ritrovamento. Il problema sta nel gestire quei reperti archeologici o paleontologici che non quadrano con il contesto in cui vengono ritrovati. Se nella tomba di un antico cavaliere templare, di fianco alla spada, trovo un meccanismo a ingranaggi, devo pensare che quell'oggetto sia finito lì per sbaglio. In gergo tecnico si parla di contaminazione. E qui si apre tutta la problematica degli ooparti, cioè degli artefatti fuori luogo, di cui so di avere già parlato in almeno un paio di video nei quali ricordo che avevo citato anche il volume di Michael Cremo, archeologia proibita. In linea di massima, quando nel corso di scavi archeologici o paleontologici si scoprono oggetti anomali, questi vengono normalmente scartati e spesso finiscono nascosti dimenticati nei cassetti dei laboratori, dei musei. Esistono poi metodi di datazione astronomica che si suppone siano i più affidabili di tutti, anzi lo devono essere per forza. Oggi noi sappiamo datare un certo evento anche in base alle eclissi. Gli antichi non sapevano che le eclissi di sole e di luna avvengono periodicamente secondo una precisa legge matematica nota come ciclo di Saros. Dunque non potevano prevederle e non potevano nemmeno calcolarle a ritroso per creare dei falsi storici. Voglio dire che non appare realistico pensare che uno storico dell'antica Roma o un cronista medievale potessero inventarsi che una certa incoronazione fosse avvenuta durante una certa eclissi. Se un certo documento storico o una certa cronaca antica fa menzione di una eclissi, bisogna pensare che quell'eclissi sia avvenuta davvero e che sia stata veramente osservata nel luogo, nel giorno e nell'ora riferita dai documenti storici. Oggi, come vi dicevo, conosciamo le leggi astronomiche che governano le eclissi. Quindi possiamo calcolare a ritroso tutte le eclissi avvenute nei secoli e nei millenni passati e confrontare le date calcolate, che hanno un valore che possiamo tranquillamente definire scientifico, con le eclissi effettivamente riportate dagli annali e dalle cronache antiche. Se le due serie di date combaciano, va tutto bene, quadra tutto. Ma se le date non quadrano, ci deve essere ovviamente qualcosa che non va. Per esempio, se andando a ritroso nel tempo si dovesse notare che le date delle eclissi riportate dai documenti storici si allontanassero sempre di più dalle date previste dai calcoli astronomici, questo potrebbe significare che, magari di poco, l'orbita della Luna attorno alla Terra nel tempo potrebbe avere subito un leggero rallentamento o una leggera accelerazione. Alla fine degli anni 90 del secolo scorso, il tedesco Herbert Illich pensa di verificare, appunto, se i parametri orbitali della Terra e della Luna fossero rimasti costanti nel tempo. E per farlo calcola a ritroso un certo numero di eclissi confrontandole con le date delle eclissi riportate dai documenti storici. Ebbene, così facendo Illich scopre una cosa strana. Le eclissi calcolate corrispondono a quelle citate dalle cronache e dai documenti storici solo a partire dal X secolo d.C. Prima di questa data pare regnare il caos più totale. Andando ancora più indietro nel tempo, le eclissi calcolate dal computer e quelle riferite dai documenti storici tornano magicamente a combaciare. Semplificando, prima dei 614 d.C. storici e cronisti dell'epoca erano precisini e affidabili. Quando riferivano che in una certa data, a una certa ora, di un certo giorno, era stata osservata un'eclissi, anche i calcoli astronomici odierni confermano che in quella data e in quel luogo effettivamente ha avuto luogo quell'eclissi. Dal 614 al 911, gli storici e cronisti improvvisamente sembrano impazzire, diventano inaffidabili e sembrano inventarsi eclissi di sana pianta in date e luoghi a casaccio, che non trovano nessun riscontro con i dati che oggi noi possiamo calcolare con precisione. Poi di nuovo dal 911 in poi storici e cronisti tornano improvvisamente a fare il loro dovere descrivendo eclissi che quadrano perfettamente con quelle previste dai più moderni calcoli astronomici. Escludendo l'ipotesi fantasiosa di improvvise catastrofi cosmiche che potessero avere sconvolto nel giro di un solo anno e per due volte di seguito i parametri orbitali della Terra e della Luna, Illich giunge all'unica conclusione logica possibile. Deve esistere quello che lui chiama tempo fantasma. Cioè gli anni da 614 al 911 d.C., mettetevi seduti, se già non siete seduti, sarebbero stati semplicemente inventati. Secondo quest'ipotesi, gli eventi accaduti in Europa nelle regioni limitrofe di questi tre secoli scarsi in realtà sarebbero accaduti in altri periodi, oppure non sarebbero avvenuti per niente. Ma a chi faceva comodo raccontare un passato diverso da quello reale, dilatando a dismisura la storia dell'umanità e inventandosi addirittura quasi 300 anni? Illich ipotizza che l'imperatore del Sacro Romano Impero Tone III, Papa Silvestro II e forse anche l'imperatore bizantino Costantino VII si fossero messi d'accordo per costruire artificiosamente il sistema di datazione anno domini, che è quello su cui ancora oggi si basa il nostro calendario, in modo che essi potessero trovarsi a regnare a cavallo dell'anno mille. A quale scopo? Certamente per dare un'aura di sacralità ai loro rispettivi regni, creare il mito del mille non più mille e suggerire l'idea di essere i protagonisti in un periodo storico unico epocale per le sorti dell'intera umanità. Per ottenere questo scopo i regnanti che vi ho appena citato avrebbero riscritto la storia, aggiungendo interi secoli e inventando di sana pianta alcune figure storiche, tra cui addirittura quella di Carlo Magno. Illich ritiene che si sia giunto a questo risultato tramite l'alterazione, la scorretta rappresentazione e la falsificazione sia di documenti che di prove fisiche. Esisterebbe un indizio che vi invito a indagare voi stessi. I numerosi dipinti, incisioni, basso rilievi e documenti storici che vanno in grosso modo dal 1400 al 1700 erotti troviamo chiaramente indicato l'anno di creazione o emissione nel caso di documenti. Ebbene, il carattere che in queste date indica l'anno mille è stranamente diverso dal carattere che indica il numero uno nello stesso documento o nella stessa opera d'arte. Questo primo uno ricorda più una lettera I maiuscola o minuscola che spesso viene anche separata dalle altre tre cifre dell'anno tramite uno o due puntini. I fattori della falsificazione storica basata sul tempo fantasma di Illich ritengono che quel carattere indichi semplicemente l'iniziale di Iesus. In rete ho trovato anche questa immagine che dimostrerebbe come su questi scudi sassoni risalenti evidentemente al 1519 al 1527 fosse normale omettere la prima cifra. Qualcuno ipotizza che è proprio questo il motivo per cui noi italiani chiamiamo 200 il tredicesimo secolo, 300 il quattordicesimo secolo e così via. Il motivo sarebbe appunto che l'anno, mettiamo, 1230 corrisponderebbe in realtà all'anno 230, il 1350 per dire corrisponderebbe all'anno 350 e così via. Vi racconto questa cosa come semplice curiosità perché da linguista ritengo che espressioni come 200, 300, 400 siano semplicemente una semplificazione linguistica. Per esempio anche noi quando parliamo, non so, di 1500 euro tendiamo a dire 1500. La lingua tende alla semplificazione, quindi anche in questo caso non occorre appoggiarsi a nessuna teoria del complotto storiografico, ma potrebbe essere un semplice meccanismo linguistico. Comunque è possibile datare un evento o un'opera d'arte anche in base a dati astronomici barra astrologici. Nel 1590 il banchiere Agostino Chigi commissionò all'architetto e pittore Baldassarre Peruzzi di affrescare la volta di una delle stanze del palazzo della Farnesina con una rappresentazione artistica, pensate un po' del proprio cielo di nascita. Siccome all'epoca non esistevano effemeridi così precise come quelle di oggi e non esisteva la capacità di calcolo attuale, è ovvio che quella volta celeste che noi possiamo ammirare oggi a Villa Chigi sia una rappresentazione fedele dell'oroscopo del banchiere. Anche perché non avrebbe avuto senso né falsificare delle posizioni astrali che prima o poi qualsiasi astrologo avrebbe potuto facilmente smascherare, né tantomeno avrebbe avuto senso anticipare o posticipare di decenni il momento della nascita del banchiere. Dunque quel soffitto ci deve mostrare la volta celeste così come era negli anni in cui fu dipinta. Adesso estendiamo questo concetto ad alcuni zodiaci egizi. Lo zodiaco egizio di Dendera, per esempio, che vedete qui alle mie spalle, viene fatto risalire al 50 avanti Cristo. Ma secondo Fomenco rappresenterebbe la volta celeste di fine aprile dell'anno 1168 d.C. Che senso avrebbe avuto nel 50 avanti Cristo raffigurare la volta celeste come sarebbe stata più di 1200 anni dopo? Non è l'unico esempio. Adesso vi mostro lo zodiaco piccolo di Esna rinvenuto assieme ad altri nel tempio di Khnum a Esna, risalente al secondo secolo avanti Cristo. Raffigurerebbe la volta celeste dei primi di maggio dell'anno 1404. Fomenco analizza una decina di zodiaci egizi che sembrano raffigurare una volta celeste di molti anni posteriore a quella del periodo in cui si suppone che tali zodiaci furono creati. Come interpretare gli zodiaci egizi? I segni zodiacali, come potete entra a vedere alle mie spalle, qui vedete il segno dello scorpione, qui vedete il segno del toro. I segni zodiacali sono rappresentati sostanzialmente come ai nostri giorni. I nomi dei pianeti invece sono rappresentati da un certo numero di persone racchiuse entro un certo cartiglio. Qualcuno può chiedersi come sia stato possibile inventarsi un calendario fittizio e imporlo all'opinione pubblica. Noi oggi viviamo in un periodo storico particolare nel quale chiunque è in grado di rispondere a semplici domande quali «Che ore sono? Che giorno è oggi? In giorni» basavano le loro giornate su almanacchi stagionali e calendari liturgici e dicono in sostanza in che giorno dell'anno ci troviamo, non in che anno siamo. Molti documenti storici non hanno una data come la immaginiamo noi adesso, ma fanno riferimento ad altri dati di fatto. Per esempio, si firmava un certo accordo e si scriveva «Siglato nel quinto anno del regno di Filippo II». È un esempio, ovviamente. Quindi per sapere in che anno era, occorre sapere in che anno Filippo II salì al trono e così via. La storia dei calendari e dei numerosi sistemi di computo del tempo, usati dall'essere umano a seconda della civiltà, del periodo storico, è un argomento vastissimo e di grande interesse che meriterebbe una serie di video a parte, ma non è nei miei programmi a medio termine. Piuttosto vi accenno alle particolari e strane ripetizioni di schemi nelle genealogie e nelle cronologie di case regnanti, dove troviamo nomi simili, sovrani vissuti per lo stesso numero di anni o che hanno regnato per lo stesso numero di anni, morte in circostanze simili, dal carattere simile, eccetera, però appartenenti a epoche completamente diverse e anche a zone geografiche assolutamente distanti fra di loro. Per esempio, secondo gli studi di cui vi sto parlando, l'andamento della Quarta Crociata sembra ricalcare le vicende americhe della guerra di Troia. La dinastia carolingia, che copre gli anni che vanno dal 714 all'88, cioè da Pipino II di Herstal fino a Carlomanno II, sembra duplicare con stupefacente approssimazione la successione degli imperatori del Terzo Impero Romano d'Oriente, dall'anno 361 fino al 527, cioè da Costantino II fino a Giustino II. Stesso numero di sovrani, praticamente le stesse durate dei loro singoli regni, con una differenza quasi perfetta di 350-370 anni, fra le due cronologie, praticamente 185 per 2. Un altro sorprendente parallelismo si può riscontrare fra la dinastia del Regno di Svezia, dal 1611 al 1950 addirittura, e quella del Regno di Navarra dall'anno 880 al 1234. Se poi andiamo a confrontare la sequenza dei re d'Israele dal 992 avanti Cristo al 243 avanti Cristo, con quella del Sacro Romano Impero dal 926 dopo Cristo al 1154 circa, cioè da Ugo di Provenza fino a Federico Verba Rossa, troviamo uno scarto quasi costante di 1840 anni fra una dinastia e l'altra. Ricordate la cronologia X 185, 1840 corrispondono grossomodo a 10 volte 185. Questi sono solo alcuni degli esempi degli innumerevoli parallelismi che Fomenko e Nosovski, matematici e statistici hanno potuto rilevare nei loro controvessi studi sui documenti storici. Di fatto questi studi sembrano convalidare, o spiegare comunque, le recenti scoperte di Cinzia Mele, che ritiene plausibile che le vicende narrate nella Bibbia non si siano svolte dove crediamo, ma fossero ambientate nel Baltico. E potrebbe corroborare anche gli studi dell'ingegner Felice Vinci, il quale a sua volta ha notato che anche le vicende americhe potrebbero essere tranquillamente ambientate nel Baltico. In conclusione credo che la grande rivoluzione tecnologica e di pensiero che, basandomi sugli studi di Andrea Barbò ritengo che sia ormai alle porte, potrebbe riguardare non solo la scienza medica, l'astronomia, la fisica, la chimica, l'esistenza di vita al di fuori di questo pianeta e di questa dimensione, ma potrebbe comportare rivelazioni e scongordimenti anche in molte altre discipline, tra cui sicuramente la storiografia. È importante sapere chi siamo e da dove veniamo se vogliamo capire i motivi della situazione attuale e le prospettive che ci aspettano in un futuro ormai prossimo. Faccio mie le parole che disse anni fa il giornalista Francisco Perez Avellan alla fine di un lungo dibattito televisivo sul caso 1. L'unico modo per impedire di essere manipolati è cercare sempre la verità che vi rimanga ben impresso. Per oggi è tutto. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti.